Una scuola in lutto, sconvolta per la morte di Michela, la studentessa di terza F colpita da emorragia celebrare, venerdì scorso mentre si trovava in palestra. Questa mattina la malaparte, sul suo banco, un bouquet, una rosa bianca, un piccolo scrigno, un orchidea. Così i compagni hanno voluto salutarla in un momento molto difficile e doloroso. Cerchiamo di sostenere i compagni di Michela e anche le famiglie dei compagni di Michela. Anche con loro siamo in stretto contatto, abbiamo voluto che fossero i singoli genitori a dare questa notizia al singolo figlio e quindi li abbiamo informati ieri e stamattina sono venuti a scuola tutti, consapevoli di quello che era successo. Siamo in contatto con la famiglia o perlomeno parenti, ecco i genitori stretti, no. L'elaborazione di un lutto è sempre difficile, ma è ancora di più a 13 anni. I ragazzi appunto è stato spiegato che trovare un perché a una tragedia di questo tipo non è possibile. Quindi noi fin da subito, fin da venerdì, siamo intervenuti facendo stabilizzazione alla classe e agli insegnanti che sono stati coinvolti in prima persona. Il lavoro che faremo a un futuro sarà quello appunto di elaborare il trauma. In attesa di iniziare il percorso, i compagni di classe a scopo terapeutico hanno stracciato tanti fogli di carta per poi lanciarli in mezzo alla classe, un modo per scaricare paura, rabbia e sconcerto. La camera ardente della ragazzina sarà allestita in via straordinaria nella sede di via Galcianese alla Misericordia. Sarà possibile visitarla giovedì 23 dicembre dalle 9 alle 17.